ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua con un altro video un'altra puntata dedicata ai vostri orologi alle vostre collezioni un format che ci piace tanto perché ci permette di vedere orologi a volte anche sconosciuti a volte visti rivisti ma è pur sempre un qualcosa di interessante soprattutto se poi anche voi vi impegnate ad essere abbastanza concisi sciolti spigliati veloci no e non sempre così però cerchiamo di essere tolleranti ed accettare tutti quanti ma non importa che ci siano gli orologi da 50.000 euro una bella collezione formata anche da orologi di 100 200 euro non è un problema quello è importante che siano scelti con cognizione di causa con consapevolezza e cercando di rappresentare il panorama orologero un po di storia un po insomma un insieme di elementi che non vadano a minimizzarsi cioè non mi interessa l'orologio in acciaio inox con il vetro in zaffero e il bracciale a maglie piene può essere anche tutto il contrario di questo no caratteristiche tecniche inferiori ma un orologino che rappresenta la storia di che ne so di citizen è tanto per fare un nome vabbè detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo simpaticissimo orient maco 2 per il ventesimo anniversario orologio che a me piace molto che che sto utilizzando con il centurino nato blu chiaramente single pass ho tagliato il pezzo in più come si suol dire e poi l'ho fatto passare sotto una volta sola l'ho già mostrato in un video è un orologio simpatico dai per l'estate perfetto fa il suo 200 metri di impermeabilità e me lo porto anche al mare adesso detto questo passiamo subito ai video perché io poi devo andare a vedere i gattini su instagram che mi rilassano mia o mia o fanno io li devo guardare guarda lì riguardo ha capito quindi veloci veloci dai ciao davide ciao sono fabio farla oristano oristano niente ti volevo ringraziare per i tuoi video grazie sempre con molta attenzione bene volevo farti vedere anch'io la mia mini collezione e faccela vedere allora andiamo spediti partiamo subito con il quarzoni un quarto un caso in coccasio vabbè ci sta da ci tengo molto a questo perché è stato un regalo per un matrimonio del mio amico a qui ho fatto in cui ho fatto da testimone bravo poi altro quarzone ci offre caldo anche a questo comunque ci tengo perché mamma me me l'hanno regalato quando ho fatto da padrino a mia nipotina e non si può eliminare dalla collezione tienilo tienilo da noi errori di gioventù ancora citizen ecco dry è bello invece un bracciale in acciaio inizialmente si è rotto quindi non ho pensato di mettere questo bracciale questo cinturino in silicone ci sta ma è bello il citizen da ogni tanto lo uso non è malaccio dai no poi poi passando agli automatici ma cosa diamo con questo swatch non gradisci ma ero curioso di provare uno swatch automatico niente un piccolo giocattolino simpatico c'è sta uno swatch ci sta da proseguiamo sempre a batteria ancora maurice lecroix molto carino questo è stato l'ascito di un mio zio ho cambiato il cinturino lo uso spesso nonostante sia piccolo mi piace mi piace parecchio ma brutto continuando con gli automatici abbiamo un Vostok Comandischi questo lo uso spesso mi piace tanto ho sostituito il suo cinturino originale che era veramente pessimo con questo in silicone non so se si vede il nero e il rosso col sommergibile di cos'è la nave e la stile madre russia secondo me ci sta ci sta si come un disco poi poi una cosa interessante dai gli ultimi pezzi che sono i miei preferiti oh bravo il silicone seiko skax 007 questo ce l'ho da una decina d'anni ho appena cambiato il bracciale ho preso un bracciale originale perché insomma mi piace così secondo me ci sta è il suo stile è stato un po difficile trovarlo però alla fine ce l'ho fatta e sono felice skx è un classico abbiamo qualcosa di più elegante oh il bambino da 40 mm colpirono molto queste lancette sfere blu quello grandino questo so che a te non piacciono tanto i numeri così però non piacciono tanto i numeri così però capisco anche bene che su un orologio classico noi classico dress watch volendo ci possono anche stare bene i numeri romani non è che a borro completamente cioè un po di tolleranza ce l'ho anch'io certo quando vedo i numeri romani mi fa tanto così effetto orologio dal centro commerciale ma anche se anche quando si tratta di orologi costosi di pregio riconosciuti come tali no fatico fatico io c'ho il mio bel santos il cartier che c'è i numeri romani ma è lì è così nasce così deve essere così mi sta bene così per l'amor del cielo a me è piaciuto subito sono molto soddisfatto molto soddisfatto bravo dopo di che cosa c'è ultimi acquisti grazie a te mi sono preso splendido glissin combat su da 39 mm bello molto 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 bello l'ho preso a pochissimi giorni mi piace tantissimo e poi ultimo 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 acchiappo questo arrivato per te oggi suiosa citizen suiosa perfetto molto molto carino insomma cosa ne pensi cosa ne penso un saluto a tutti grazie per il canale love 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 cosa ne penso ne penso che insomma a degli orologini economici ma tutto sommato di valore sembra uno simoro ma in realtà è così il citizen suiosa l'orient bambino il secco skx e glissin combatsub quattro orologi che con una modesta cifra ti sei accaparrato e ti sei messi a casa e sono perfetti cioè per te quei due diver un dress watch e uno sportivetto che sarebbe lo suiosa no oh perfetto la collezione perfetta al netto del di quelle cioffecchiette e mezzo cioffecchiette lo swatch ci sta in collezione ma anch'io lo vorrei non ce l'ho ma se mi capitasse un giorno compro prendo lo metto lì no oppure il calvin klein che ti hanno regalato oppure anche l'eco drive della citizen quello lì è valido insomma una collezione da 7 io gli do un bel 7 perché sono soprattutto quelli che hai scelto te sono orologi validi e che hanno un senso di essere in collezione non è che proprio diversificati sia per marchio che per tipologia quindi che potesse andare avanti così tutta la vita con quei quattro cinque orologi lì ci mettiamo anche il citizen eco drive cronografo tutte tipologie meccanici al quarzo eco drive a parte quello lì di calvin clay che come marchio proprio l'orologio sarà anche fatto bene no ma come marchio che avrei vergoglia di darci in giro tutto lì il punto comunque un bel 7 te lo sei meritato bravo 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 ciao davide sono da roma la mia ragazza che sta filmando sarah sarah mostrarti la mia piccola collezione io mi sono intanto qua salutiamo sarah che fa sempre piacere avere un rappresentante del gentil sesso sei da roma c'è l'accento fiorentino infatti c'è il gagliardetto della fiorentina c'è anche la macchina sportiva la che non riesco a capire cos'è non la vedo non so cos'è gagliardetto della fiorentina con i suoi bei due scudetti una coppetta di qua una coppetta di là è un cosino è un cosino della cos'è la coppa italia quella giù poca roba ragazzi vabbè impegniamoci di più appassionato da poco al mondo degli orologi e della mia collezione fanno parte soprattutto orologi regalati o comunque estorti ai miei familiari bravo qualcuno invece è stato comprato iniziai subito dagli orologi a batteria così ci dobbiamo subito il dente il primo è questo casio color tiffany color tiffany stile vintage celeste si può dire celeste molto carino molto carino dopodiché abbiamo questo sector anni 80 sempre al quarzo con ancora il suo adesivo da quando è stato acquistato ho cambiato il cinturino anche questo lo uso spesso successivamente abbiamo l'orologio diciamo che rappresenta la mia passione appunto per la fiorentina come hai potuto ben notare eh sì un altro orologio anni 80 è questo charles che vignone di cui non so nulla ebbè però mi piace davvero tanto e allora non funziona passiamo adesso agli orologi meccanici il primo che vediamo è un sector armé non so di cui non so veramente niente e non è funzionante quindi probabilmente dovrò farlo revisionare come sto facendo con tutti i miei orologi vintage particolare successivamente abbiamo un bellissimo con un jean anni 50 ma sì e questo l'ho indossato pure tanto e continuo a indossarlo magari quando vado in moto non cerco di non metterlo funzionante e penso che questo ce l'hai pure tu in collezione o comunque uno molto simile sì simile purtroppo non ha la corona originale però veramente stupendo non lo sappiamo se non è originale è quella lì dopo ti faccio vedere questo bellissimo eberhard dopo rettangolare questo era di mia nonna ed è il prossimo orologio che devo far revisionare anche se comunque è funzionante però penso che una bella revisione se la meriti bello ma lo sai la particolarità di avere questo vetro bombato veramente stupendo dietro c'è un incisione fantastico ci piace lo indosso pure io anche se penso che sia più da da signora che da uomo però io ho un polso molto piccolo quindi lo trovo lo trovo perfetto per me è certo per seo di mio padre questo anni 60 tutto d'oro bello bello sono state fatte però un po di magagne non si chiude benissimo però l'ho appena fatto revisionare ed è anche questo funzionante cronografo ovviamente super seo non devo dire nulla ho conosciuto un orologiaio che mi ha è un po fatto conoscere la storia di questa casa e tanta roba e niente mi ci sono abbastanza appassionato hai fatto bene passiamo adesso alla parte della mia collezione dedicata agli orologi automatici questo baltani è il primo acquistato da me un orologio cinese che però ha dedicato alla dirti dozen e insomma mi sono innamorato del dell'aspetto di questo di questo orologio il fatto che comunque ricordasse quei canoni che erano dedicati appunto agli orologi da campo si può cambiato il cinturino non c'entra molto però mi sembrava ci stesse bene sì però l'unica cosa che le sfere così a cattedrale magari negli orologi militari non venivano mica utilizzate comunque è una reinterpretazione poco male seiko presage cocktail questo regalato personalmente alla mia ragazza e niente sono arrivato in orologeria l'ho visto e me ne sono innamorato e io l'ho dovuto assolutamente regalare secondo me dal video non rende sicuramente perché ma lo conosciamo dal vivo c'ha dei riflessi che è qualcosa di fantastico fantastico poi lo stesso giorno che ho comprato che ho regalato il presage cocktail io mi sono acquistato questo seiko 5 automatico diver e l'utilizzo adesso tutti i giorni vabbè movimento a vista non è forse amatissimo però come non è amatissimo anche questo il quadrante fa dei riflessi veramente veramente molto molto belli molto belli però non è un diver poi infine gli automatici abbiamo questo long in vintage fatto revisionare non mi ricordo tipo 35 mila 37 mila alternanze veramente una bomba come 35 mila 37 mila ma in mezzo 36 mila cioè vanno pari le alternanze no non è che sono dispari 37 mila vabbè 37 mila è pari vabbè comunque 36 mila no è il classico calibro ultrachrome ma siamo sicuri che è ultrachrome non vedo fammi vedere ma questo ho cambiato il cinturino blu però forse forse ho fatto una cazzata no sì non è che è bellissimo aspetto un tuo parere ultimo ma non per importanza questo bellissimo orologio da taschino tutto in oro postala ancora funzionante meccanico veramente cioè che gli devi dia uno così e niente spettacolare tutto d'oro ancora anche con il suo la sua cordicina d'oro cordicina e niente io ti saluto davide ti saluto io ti saluto la mia ragazza sara ciao sara e sempre forza viola ciao 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 sara la cordicina che sarebbe la catenella no si può dire anche l'italiano catenella catena cordicina proprio beh dai è una collezione variegata che è improntata principalmente su pochi pezzi contemporanei ed economici ma belli di valore e alcuni vintage poi c'è il quarzone io gli darete sentire tutto questo insieme qua con quei due bei long jean lì vintage mi fanno ingazzurire quindi ti darei un bel 7.5 7.5 perché è una collezione che nel limite delle tue possibilità è fatta bene fatta compassione diciamo c'è molta passione in questa in questa raccolta di orologi non sono oggi presi così tanto per compiacere qualcun altro ma proprio per interesse personale promosso ciao davide io sono alessandro e volevo vedere la mia piccola collezione di orologi inizio con il primo si tratta di questo seico al quarzo del 1980 è un orologio che ho ritrovato in un vecchio cassetto della casa di mia nonna si tratta di un orologio non di nessun valore dal punto di vista economico ma più un valore sentimentale ho deciso di metterlo a posto ripristinarlo era l'orologio che utilizzava mio padre quando aveva vent'anni ecco io sinceramente questo un orologio così questo seico quarzo lo indosserei volentieri quotidianamente cioè nei limiti del per non rovinarlo perché rappresenta uno dei quarti degli anni 80 che dell'80 preciso siamo proprio alla fine della decade del quarzo no degli anni 70 dove hanno sviluppato il calibro e quarzo che è poi passato dall'essere la novità costosa ma che tutti volevano ad essere un pochino più alla portata di tutti perché una volta che la tecnologia viene assimilata e viene poi estesa la produzione di su scala massiva si abbassano anche i prezzi quindi probabilmente qua eravamo già nella fase che insomma si riuscivano a comprare più facilmente rispetto a metà anni 70 questo qua come forma come concetto è uno di quegli orologi che io indosserei volentieri e che volentieri avrei in collezione non è che quarzo 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 si scherza a certo punto è carino simpatico di tanto in tanto lo utilizzo bravo fai bene poi l'orologio successivo l'ho acquistato a 22 anni dopo i primi risparmi si tratta di questo mega constellation al quarzo da 35 mm l'ho comprato ecco in questo caso io invece sono meno propenso a questo orologio qua esiste perché omega ok marchio costoso constellation orologio costoso esiste la sua controparte meccanica automatica sì che esiste quindi io tra le due vado a scegliere quella automatica che costa di più tra l'altro quindi in questo caso per me il quarzo è un minus mentre è un plus per il seco che abbiamo visto prima in questo caso minus cioè vedete come cambiano le cose rispetto al contesto non è che sempre il quarzo è cacca è automatico e viva il secondo polso è una referenza del 2001 la referenza è la 15 52 862 nonostante i 35 mm comunque sul mio polso veste bene in quanto un polso molto esile da 15 centimetri e mezzo mi è sempre piaciuto il costellation per un discorso del bracciale integrato queste forme particolari il bracciale super conoscibile orologio che ho indossato tantissimo è stato il mio everyday watch in poche parole per quattro anni da quattro anni a questa parte anche il discorso del quadrante non è un bianco non è bianco ma è un color avorio che in base anche al alle situazioni di luce cambia leggermente nel senso che tende a inscurirsi quando non è diretto contatto col sole e nulla mi piace molto l'ho indossato veramente tanto è stato il mio primo orologio serio se così si può definire che ho acquistato ecco certo poi volevo un vintage volevo un vintage a tutti i costi alla fine non sono riuscito a trovare quello che volevo ho deciso così di optare due anni fa per natale mi sono regalato questo timex marlin è una ridizione del modello del 1960 un quadrante argente cassa da 34 mm movimento movimento manuale carica manuale vetro a cupola plexi carino simpatico questo questo orologio qua in cassa calibro sigla calibro cinese a carica manuale non è che sia così tanto di pregio di particolare però è bello mi piace lo consiglio anche io spesso a chi vuole un orologio 34 mm simil vintage cioè non è che è tutta cacca anche lì sigla è un marchio che insomma ogni tanto anche questo lo utilizzo carino fa il suo dai fino ad arrivare poi al pezzo forte l'ultimo orologio che acquistato è stato il grail watch per eccellenza da quando ho 16 anni che lo desidero durante il mio ventisettesimo compleanno ricevuto la fatidica chiamata dal rivenditore rolex si tratta di questo explorer da 36 mm la referenza è la 124 270 il nuovo insomma monta il movimento 32 30 orologio questa volta concedimelo veramente molto bello molto bello orologio iconico della casa 369 quadrante pulito una leggibilità incredibile in ogni condizione diciamo che ho esitato un pochino prima di acquistarlo in quanto per un discorso di bracciale ho visto pareri discordanti in quanto questo bracciale inizia parte da 19 e rastrema molto fino ad arrivare a 14 sulla clasp è bello devo dire che comunque non lo trovo per nulla sgraziato mi piace mi piace moltissimo diventerà il mio everyday watch a tutti gli effetti non riesco a togliere dal polso e nulla ecco è un orologio che io trovo iconico a tutti gli effetti lo paragono come sua iconicità ecco al modello di omega lo speed master il mu watch in quanto è un orologio che ha comunque fa parte di qualcosa di incredibile fatto dall'uomo ecco ho avuto un momento di esitazione nel senso che non ero così convinto di acquistare la nuova referenza ma stavo optando per il 114 270 anche visto che nei forum ne parlavano molto male in quanto i puristi di explorer dicevano che questo bracciale aveva sgraziato un po l'orologio non assolutamente mi piace tantissimo e nulla non riesco a toglierlo dal polso a parte questo volevo poi chiederti un consiglio ovviamente non nell'immediato ma mi piacerebbe poi acquistare un omega speed master il mu watch ma per un discorso di polso non so cosa fare nel senso un amico o un amico che ha il 42 millimetri l'ho provato sul mio polso lo vedo comunque molto grande e volevo chiedere anche a te se è più un discorso di abitudine o cosa se no stavo andando diciamo su altre referenze altri modelli il primo che mi è venuto in mente l'omega speed master reduce ed anche se mi convince mi convince poco e so che anche tu non ne sei un grande fan la seconda opzione sarebbe il first omega in space che mi sembra diciamo l'alternativa più valida in quanto è un 40 millimetri anche se il discorso che non esce col suo bracciale in acciaio questo mi fa storcere un po il naso i racing non li valuto nemmeno in quanto non mi piacciono così tanto devo essere sincero e quindi volevo chiederti un consiglio da parte tua anche magari di qualche altra referenza che io non sto valutando per il momento e nulla ecco tolto questo volevo fare i complimenti per per i video che porti la tua rubrica è un appuntamento fisso infatti ti ringrazio anche perché ogni volta si scoprono nuovi orologi nuove storie legate ad essi ed è veramente bello insomma ti ringrazio grazie a te non di che porti e grazie alla prossima ciao alla prossima intanto per la tua bellissima collezioncina di quattro orologi gli diamo un bel sette e mezzo sette e mezzo ai 4 4 orologi di quattro marchi differenti di quattro marchi con il contro scatolone perché stiamo parlando di timex seiko omega e rolex perfetto nei due quarzo e due meccanici di cui uno carica manuale una carica automatico bellissimo promosso e belli orologi o poi ti vuoi comprarti un bel omega speed master giustamente te dici il 42 troppo grande si anche per me lì per lì mi sembrava un po grande io anche posso 19 di circonferenza quindi ci sta ma è semplicemente una questione di abitudine è una questione di abitudine perché ora te li ho visto tutti i orologi piccoli 36 34 35 quello di forma e te sei chiaramente abituato a indossare quegli orologi lì che al polso ti danno una certa sensazione quasi quasi retro vintage no nel momento in cui ti indossi qualcosa di più grande di quello che possa essere anche 40 sicuramente lo vedi come grande lo vedi sicuramente lo vedi come grande è solo questione di abitudine perché io quando indosso gli orologi piccoli e poi passo a quelli grandi dico mamma mia questo qua è veramente grande quando poi dopo faccio un periodo con gli orologi grandi questo qua è 40 41 42 la speed master 42 si master 42 cioè io ho gli orologi da 42 43 faccio un periodo come lo skin diver la lungi in 42 un periodo con quegli orologi lì bei dai vero belli grandi poi passo a quelli piccoli e me li vedo piccoli quegli altri è proprio questione di abitudine quindi a parer mio è bene avere sia gli uni che gli altri perché poi si cambia anche durante durante un certo periodo in un mese posso aver voglia di indossare qualcosa di meno vistoso qualcosa di più vistoso dipende un po dalle situazioni quindi è solo questione di abitudine detto questo se poi proprio tu non volessi andare sul 42 moon watch classico e giustamente ti dici il first omega in space che è 40 mm 39 qualcosa anch'io l'avevo preso in considerazione so che è solo usato lo vendono vabbè nuovo non c'è più e non giunge con il con il bracciale io lo scartai anche per quel motivo lì senza poi però scoprire mi sono scoperto che lo speed master moon watch mi piace anche con il cinturino visto il coccodrillo ce l'ho messo con il nato quindi io ho fissato con il bracciale per poi scoprire che si può indossare tranquillamente anche con altre situazioni quindi non è da scartare il first omega in space poi ce ne sono tutti gli altri che hai citato sì il racing non piace neppure a me hai dimenticato il reduced non mi piace per vedere il calibro a panino e poi per il fatto che assomiglia al moon watch ma lo scimmiota in piccolo ci sono poi le versioni dell'omega ho fatto un video l'omega di speed master lo speed master dimenticato che c'è il coaxial nuovo alistino da 38 mm quello lì è da prendere in considerazione al tempo costava anche molto meno rispetto allo speed master moon watch oppure ultima istanza quelli un pochino più vintage un pochino più degli anni 2000 2005 2004 si trovano il classico omega speed master automatico e quello con i 77 50 con i tre contatori ore 12 6 e 9 a me quelli piacciono ci sono 39 hanno anche il cinturino da 19 se non mi sbaglio che parte l'ansal 19 sono abbastanza piccoli al polso stanno bene quindi anche quella possibilità lì se proprio non vuoi qualcosa di recentissimo comunque le scelte sono tante veramente tanto però io non disdegnerei un bel moon watch di fianco nuovo di quelli c'è moon watch di fianco all explorer insomma c'è di me comincia avere due pezzi iconici come dici te iconici che ci piacciono tanto boh ragazzi fine del tempo devo andare a vedere i gattini su instagram io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video puntata un po corta perché meglio così sono un po raffreddato sentite e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisica come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love